Musica Ben trovati a un nuovo appuntamento di SEP Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud. Ospite in studio per questa puntata, il dottor Carlo Locatelli, responsabile per Confindustria Toscana Sud dell'area metalmeccanica, quindi ovviamente una delle aree più importanti del nostro territorio, ma in generale dell'economia del nostro paese. Ricordiamo che siamo la secondo paese manifatturiero in Europa, soli i secondi alla Germania. E' proprio di metalmeccanica, parliamo insieme al Presidente, perché è stata diffusa pochi giorni fa la 168esima indagine che Federmeccanica fa del suo comparto, quindi la nostra casa madre a Roma, la sezione nazionale, e sono numeri ovviamente che fanno riflettere. Presidente, iniziamo da qua. Una panoramica un po' generale. Che fotografia fa il Centro Sud di Ricerca di Confindustria? Allora, è una fotografia congiunturale e tendenziale di quello che è il settore meccanico, settore che rappresenta oltre 1.600.000 lavoratori, un settore che fa dell'esportazione, sicuramente uno dei cavalli di battaglia. Mi riallaccio a questo per il riferimento alla seconda manifattura d'Europa. Congiunturalmente ci troviamo di fronte a un paese, a un comparto che rispetto ai due trimestri precedenti è sostanzialmente fermo. Ci preoccupa però il fatto che rispetto ai primi nove mesi del 2022 c'è un meno 2% che inizia a pesare. Ma soprattutto iniziano a pesare da questa indagine, iniziano a pesare quelle che sono le prospettive delle aziende. Sempre più aziende intervistate focalizzano le loro criticità su un portafoglio d'ordini che è minore rispetto a quello degli anni precedenti, su una produzione che sta rallentando e anche questo è tendenzialmente un dato non bello, cominciano a avere crisi di liquidità. Si fanno, a causa costo del denaro, sicuramente meno investimenti, quindi anche la liquidità aziendale comincia ad essere un po' sotto stress e anche l'occupazione nelle proiezioni di quello che sarà il 2024 non è che brilla. Qui sicuramente c'è da fare un distingo, ovviamente parliamo di un gap che è sicuramente quantitativo e qualitativo. Quantitativo soprattutto legato a certe dinamiche anche demografiche che il nostro paese sta vivendo, i nostri territori, ricordo Siena, Arezzo e Grosseto, stanno forse iniziando da qualche anno ad avere come criticità. Ma anche è un problema qualitativo perché, come sappiamo, ci sono delle disponibilità per delle posizioni aperte, di ricerca e del lavoro, ma tante aziende non trovano quelle competenze di cui avrebbero bisogno. Quindi, ricapitolando, una congiuntura che è sostanzialmente ferma e una tendenza rispetto all'anno precedente che però ci vede un attimino penalizzati di un 2%, con l'aggravio di queste prospettive che iniziano a pesare su tutte le aziende. È evidente che ci sono dei comparti che vanno un po' meglio, quelli che vanno un po' meno bene. Pensando al nostro territorio, dopo tanti trimestri di difficoltà, sembra rifunzionare e ha dei numeri positivi il settore dell'automotive, quindi penso a tutto quello che è il camper in Val d'Elsa. Ci sono altri comparti più legati alla metalmeccanica tradizionale, quindi lamiere, torniture, fresature, che sono un po' più in difficoltà. Questo è un po' un sunto abbastanza stringente. Vi chiederò sugli elementi anche locali in approfondimento. Vorrei tornare però all'inquadramento in generale che dà il report, appunto il 168esimo report di Federmeccanica. Accanto a questi elementi che vengono fotografati c'è poi, Presidente, una serie di scenari. Ovviamente già in parte li accennava il contesto internazionale. Da una guerra siamo a due guerre. Quello è successo anche recentemente al canale di Suez. Il tema dei tassi, questo waltzer sempre più vorticoso dei tassi di interesse. Forse ora c'è qualche buona notizia, ma vediamo. Il tema, come diceva lei tra l'altro un esperto del settore sulle risorse umane, la difficoltà, noi lo raccontiamo a questo tavolo con gli imprenditori che vengono in nostro forma tutte le volte, la difficoltà di trovare figure sulle offerte di lavoro che le aziende fanno. La sintesi di tutti questi elementi che non sono, ahimè, di recente genesi, ma ormai accompagnano il percorso ostacoli delle aziende, certo sono degli elementi che continuano a destare preoccupazione. Siamo nel fine anno, ma gli scenari che abbiamo davanti, Presidente, mi sembrano abbastanza sempre problematici su questi aspetti. Non voglio essere pessimista perché non lo sono di natura, però di fatto qualche punto interrogativo davanti ce lo abbiamo e dovremo pensare a livello generale come affrontarlo. Sicuramente le criticità che hai elencato sono criticità che vengono oramai da tanti anni. Penso alla guerra russo-ucraina che per tante aziende, che ricordo, esportano tanto le nostre aziende meccaniche, possano rappresentare oramai da tanti anni una difficoltà per servire quei mercati che erano sicuramente dei punti di riferimento. Allo stesso tempo però c'è da leggere un rallentamento generale di quello, per esempio, che è il nostro mercato di sbocco principale, cioè quello della Germania. La Germania sta faticando e noi che esportavamo lì tanta, tanta merce ci troviamo di fronte a queste difficoltà. Quello che a me preoccupa principalmente sicuramente è il tema del costo del denaro, anche se vediamo come a fronte di un'inflazione che insomma sia un po' rallentata potrebbe in qualche modo essere abbassato, vedremo i prossimi sviluppi. Questo perché ovviamente un costo del denaro alto genera una mancanza di investimenti. Sempre più aziende dicono di non investire per criticità legate a questo aspetto. Ma quello che alleggia su tutte queste motivazioni concrete, diciamo da punti di uno schema, sicuramente è una grossa dose di incertezza. Cioè non è che le aziende non hanno capacità di rischio, perché il rischio lo possiamo calcolare, possiamo prendercelo o non prendercelo. C'è questa incertezza generale che determina un fermo, una mancata voglia di provare a nuovi mercati, nuovi prodotti e questo probabilmente poi nel lungo andare lo rivedremo su quello che sarà lo sviluppo delle aziende. Ecco questa cosa qua secondo me è quella un po' più preoccupante, perché se non cresciamo, decresciamo, ora sembra una cosa ovvia, però ovviamente l'investimento è quello che crea nuove idee, movimento, effervescenza, nuova occupazione, prima parlavamo di quello, e in qualche modo questa è la cosa che a me preoccupa un po' di più. Quindi auspichiamo che le autorità monetarie in qualche modo intervengano su questi aspetti sicuramente. Torniamo a un punto di sintesi finale che poi ci porta a un concetto chiave ovviamente per ogni azienda, che è il concetto della marginalità, che ovviamente i fattori che lei ha esposto, che il report racconta, vanno a erodere, il termine è proprio calzante in questo caso. E quindi qui la preoccupazione sale, Presidente. Assolutamente, è un tema che ha toccato solo in maniera tangente le nostre aziende, le nostre attività. Questo perché le aziende a fronte di costi di produzione legati alle materie prime, ai costi energetici, hanno sopperito comunque facendosi carico di questi aumenti di prezzi. Dopo alcuni anni, perché parliamo di alcuni anni a questo punto, questo sopportare questi maggiori costi, tenendo fermi quelli che sono i ricavi, va necessariamente a impattare sulla marginalità. Il non guadagnare ovviamente determina delle difficoltà delle aziende e si legano in maniera importante anche a quello che dicevamo prima, quindi alla voglia di investire, alla voglia di provare nuove soluzioni, nuovi mercati. Certo è che le aziende non hanno deciso di ribaltare sul cliente finale questa mancanza di marginalità, ma dopo alcuni anni probabilmente a questo punto è fisiologico che dovremo in qualche modo ripensare questo aspetto. D'altra parte i numeri sono numeri e diverse aziende, soprattutto quelle che hanno un prodotto più tradizionale, come dicevamo prima, alcuni settori che elencavo prima, sicuramente cominciano a avere delle difficoltà. E in prospettiva questo sarà probabilmente il tema principale legato all'andamento del settore della meccanica. Presidente, io la ringrazio per questa sua testimonianza, intanto ovviamente auguri a lei, a tutta l'azienda che lei guida, a tutto il comparto, ovviamente i colleghi della sezione metalmeccanica di Confindustria Toscana Sud. La riprenotiamo già per un'intervista d'inizio anno, così già nel 24 ripartiamo da questi problemi per vederne l'evoluzione, che è ovviamente scopo del format. Grazie a voi per l'attenzione, io vi ricordo che ovviamente potete rivedere tutte le puntate di Step e Start all'interno delle pagine social di Confindustria Toscana Sud, nell'apposita sezione della Web TV di Canale 3 Toscana, che si occupa della produzione tecnica. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Grazie a tutti.